Un viaggio in quelle notizie dimenticate dai grandi giornali, in quelle storie che non tutti vedono e che noi, anzi, TV2000 vuole invece approfondire, insieme a Giuseppe Carreri e a Ninna e Nanne ai tempi della guerra. Buongiorno. 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 Grazie per il video. Giuseppe, siamo arrivati a questa sera, in seconda serata, andrà in onda la quarta puntata, una puntata che ci porterà direttamente in Georgia, giusto? Sì, a Gorelovka, esattamente, in un'area particolarmente sconnessa dal mondo e dall'Europa. Cosa vedremo, Giuseppe? Allora, il racconto di stasera ci porterà in un'area rurale, è molto particolare perché la visiteremo attraverso gli occhi di una fotografa, la Georgia è uno stato significativo all'interno di tutta la geopolitica europea perché racconta altre tensioni che ci sono state con la Russia, però la fotografa ricerca nella sua spedizione l'immagine della pace, quindi noi finiremo in una sorta di borgo dimenticato per non dimenticare la pace, soprattutto attraverso una scelta significativa, ovvero quella di una comunità russofona, che sono i Dukubur, che sono insediati con delle tradizioni plurisecolari proprio all'interno di questa piccola zona a confine con la Turchia e l'Armenia. Quale modo migliore per avvicinarci al Natale e scoprire anche il senso di pace e convivenza se non quello appunto di andare in quei luoghi che ci verranno raccontati e ritratti questa sera a cercare di capire come il materiale umano riesce a convivere pacificamente? Ma assolutamente, l'augurio per il Natale è proprio quello di riuscire ciascun di noi a trovare nella propria vita un'istantanea fatta di spensieratezza, di pace, di distensione. Viviamo tutti, come dire, coltivando continui conflitti piccoli e grandi e quindi di conseguenza questa tra tutte le ninne e nanne non ha semplicemente un focus sull'infanzia, ma è un focus su qualsiasi fascia anagrafica. È una chiara metafora all'interno di una situazione politica che invece ci ricorda esattamente il contrario. Giuseppe, un viaggio il tuo che è iniziato a novembre e che si conclude proprio a pochi giorni dal Natale. Allora vorremmo tutti noi farti gli auguri di Natale e ringraziarti per questo viaggio che abbiamo fatto insieme. Allora invita tu le persone che vorranno guardare stasera, in seconda serata, ricordiamolo, l'ultima puntata della tua docoserie, perché accenderla a TV e guardar TV 2000. Grazie, ovviamente rinnovo gli auguri a voi e a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Per stasera l'invito è uno e uno solo per trascorrere una porzione di tempo staccandosi da qualsiasi inquietudine per cercare di vedere il mondo con gli occhi nuovi. Se ciascuno di noi lo facesse forse potrebbe iniziare davvero un tempo diverso. Natale o qualsiasi... Grazie, grazie a Giuseppe Carrieri.